Cosa mi fa stare veramente bene in questo momento? Ecco la domanda suggerita dall'arcano 19, ovvero il Sole, che abbiamo estratto ieri. Sole che rimanda alla radiosità, all'ottimismo, a quell'energia calda che ci deve aiutare a superare i momenti difficili per avere successo, per iniziare a costruire qualcosa, con qualcosa in grado di rappresentarci nel profondo. Potrebbero esserci delle persone che sanno tanto, oppure possono effettivamente aiutare qualcuno, e allora sono semplicemente chiamati a farlo. Aiutate, condividete il sapere, non trattenetelo. Ci sarà sempre qualcuno che aspetta una dritta da parte nostra. E allora bisogna irradiare chi siamo, cosa rappresentiamo, fare risplendere il nostro aiuto ed il nostro sostegno, soprattutto verso le persone a cui teniamo veramente. Queste sono delle vere e proprie qualità. Potremmo iniziare a vedere che molte persone sono attratte da noi proprio per questa forma di ottimismo, in modo positivo di vedere la vita, e va benissimo così. Ora, se stai attraversando un momento difficile, allora l'arcano 19 ti porta il messaggio che le cose miglioreranno sicuramente. E nonostante io odi profondamente frasi del genere, posso dire però che una volta capito che il lavoro da fare è sull'ottimismo e sull'aiuto reciproco, allora ecco che le cose stanno per migliorare se facciamo leva su questi valori. E quando pongo la domanda cosa mi fa stare veramente bene in questo momento, intendo proprio iniziamo a lavorare su ciò che di positivo c'è nella nostra vita, senza andare ad usare i tarocchi solo ed esclusivamente per i problemi e per le cose che non stanno andando. E quando compaiono queste carte, io le come sempre sfrutto poi anche a livello didattico per far vedere delle cose interessanti. Infatti l'appeso, molto spesso quando lo vediamo, urliamo subito al problema, pensiamo subito al blocco, a qualcosa che non va, in realtà può essere anche uno stare, un permanere, un fermarsi. Ma un fermarsi, in che senso? Magari uno stare in famiglia, stare con la famiglia rappresentata da quel giudizio, per tutte le persone che stanno dicendo eh ma non ho la famiglia, non sto in famiglia da tot. Ricordiamoci sempre che i tarocchi sono un linguaggio figurato, quindi uno stare in famiglia è uno stare con persone che condividono qualcosa con noi, un'idea, un'ideologia, un'opera comune. La casa Dio, beh, è una fortissima apertura verso l'esterno, può rimandare anche al divertimento così come rappresentata nel tarocco di Marsiglia e allora ben venga questo stato di cose, stare in famiglia per aprirci, per divertirci insieme, ed è meraviglioso. Questo appeso, gli abbiamo dato il senso di stare e permanere, se fosse stato il matto, altra cosa che non va mai fatto il gioco del e se ci fosse stato, però facciamolo ugualmente con un'ottica puramente didattica, qualora fosse stato il matto, per esempio, avevamo più un senso di andare verso la tua famiglia, quindi forse c'era qualcosa da fare. Invece l'appeso indica proprio che ora va benissimo il permanere. Quello che è ora, staci, rimanici. È interessante anche vedere come nell'appeso e nella casa Dio compaiono di base due personaggi capovolti, quindi quello dell'appeso e quello di sinistra della casa Dio. Quello di destra non sappiamo precisamente se è capovolto, però è un simbolo che si ripete, quindi diviene importante. Allora probabilmente se stiamo guardando qualcosa da un punto di vista diverso rispetto al gruppo, possiamo confrontarci col gruppo stesso, giudizio, per portare anche altre persone dal nostro punto di vista, portarle a vedere quella cosa proprio come la stiamo vedendo noi. Quindi cosa mi fa stare veramente bene in questo momento può essere anche un esplicitare, un ragionamento, un'idea che noi vediamo diversamente dagli altri, però nell'ottica di cercare anche qui qualcosa di comune. Ecco qua. Mi raccomando, se vuoi andare a scavare un pochettino più a fondo rispetto a questo tiraggio, hai tutti i significati dei tarocchi nel blog, tarocchi.blog, e se non sei comunque abilitato per qualsiasi motivo a fare letture di tarocchi, perché non conosco i tarocchi, però sono incuriosito, oppure in questo momento mi manca il mazzo di carte perché me l'ha mangiato il cane, puoi andare sempre su tarocchi.blog, alla sezione tarocchi gratis, dove puoi beneficiare dell'esperienza di un consulto gratuito, quindi con la possibilità anche di approfondirlo. Mi raccomando, ci sono certi idioti che commentano eh, ma il che non va, non mi ci sono ritrovato. È un tiraggio automatizzato. Tu invece che sei intelligente, capirai che è un tiraggio automatizzato, quindi delle cose sicuramente ti risuoneranno in modo importante, e altre cose dovrai approfondirle, nemmeno da te, perché in base poi alle carte che usciranno, potrai sempre fare un semplice click e scoprire di più sull'arcano che forse ti sta sfuggendo.